L'idea di questa mostra è nata dalla conoscenza con Luca, una persona che avevo già avuto modo di incontrare ma non sapevo che facesse poesia e dà l'idea di un'amica che abbiamo in comune di associare alle sue poesie delle mie fotografie e viceversa. A questo punto io e Luca ci siamo incontrati ed è nata questa bella sinergia che oggi è anche un'amicizia, che stasera è il culmine di tutto questo lavoro che noi abbiamo fatto in questi due mesi in cui da una parte io ho proposto a Luca delle fotografie mentre lui ha dato voce, ha dato un'anima alle mie immagini e devo dire che stasera la grande partecipazione di amici e anche di pubblico con l'intervento del professor Paolo Briganti con l'intervento del professor Bacchini, con l'intervento di Raffaele Rinaldi che hanno letto le poesie devo dire che è una serata che davvero secondo me crea questo bel connubio, questa sinergia. Oggi qua in libreria la fotografia e la poesia si sono incontrate e si sono unite e sono molto soddisfatta di questa idea e non escludo che in futuro ci saranno altre occasioni qua nel cuore di Parma e nella libreria Fiaccadori che comunque è già di per sé un luogo di incontro e quindi devo ringraziare anche Luca, appunto partner in questa iniziativa.